secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie provo e provo e 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 o io i i i i i i i i i ultima settimana se bella ultima settimana bliaa ah bliaa io io senza a che Non è stato fatto E poi c'è il problema Oh my god Oh my god Oh my god Was? No Wo? What the fuck? Carsdraft da? Bist du da? Non Non, er è afkan Er è afkan Wie scheiße Er è stato tot Oh my god Lai è stato spett Gesehn Lai reaccion Alle schien Alle schien Non, non, non Ne, non Niche abfaccia Ne, non Ich kann nicht Seine reaktione Sehen Dann weine Doch Ich brauche Seine Oh my god Nonno, perché le cose i alla non serbano? Non c'è nessuno c'è nessuno? E insieme anche nessuno. Non c'è nessuno. C'è nessuno per dice. Trame un Childish d'Otri di andare... Sì perchè... Sì... C'è nessuno... Sì... Molto... Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. So is it the first seven cards? Time to end the street? Yeah, everything in those first few blocks is first seven. It's gotta be seven, right? Yeah, for seven cards. Grazie per la visione Noi, non lo so. Merle, versi mal kurz, wenn du alt und freecam machst, dann kommt man doch in diesen Dings-Modus, oder? Olltch! Oh! Tch! Nein! Nein! Oh, oh, god! Wenn du fringst Bier haben, dann schau sie in deinem Gesicht. Das ist so sie sagt. Hahaha! Das war so gut! So good! Oh my gosh, das war gut. Das war so great. Das war sie sagt. Isto hier noch keine Einges. Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so, ach so... Ach so, ach so, ach so... Ach so, ach so, ach so. C'è questo? C'è questo? Non lo haria in questo, eh? A Ibai? A Ibai non lo haria in questo, hijo de p***a. Si Ibai participa in la serie y te dice che amico, tirame 15 horas. Amigo, no le di una hora extra a Carré che se murio nel primo giorno. Le doy una hora a Ibai. Stiamo parlando a Ibai. Però che tiene? Ibai? Carré mi amigo mio. Però tiene macarré, boludo. Stiamo parlando di Carré, boludo, per l'evento. Lo de Carré fuori abbastanza indefendibile. Si, si, si. Depende boludo, si fu un bug o algo asi. Si, si. Si, si, si. Sto. Sto. F*** 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 no 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 No, 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 no. You're foolish, tell us! Oh no, oh no. Oh, he's dead. Oh, yes! Let's fucking go! No! Okay, yeah. . . . . . . Spider I 30 per farò di più Ah, con me toco qui Ok Sì Sono i rispetto di zè Grieziamo che io Oh, li rispetto per le 6 Ok Vi coso Bye ok 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 chris green chris green stava attrapato con un zombie in esqueleto entonces ahí apareció chris green obsoleto tenía una spada una accia ah me sta cucchendo il derrois è un kinder pingui guarda che bello oddio 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 no ecco fatto problema risotto